Guernica è la mia casa. Ci abito da quando Pablo l'ha dipinta, nel 1937. Avevo trent'anni. Quella donna che urla, sono io, Dora Mar. Avrei tanto voluto dare alla luce un figlio, ma non c'è stato niente da fare. Si tratta di vera sterilità, nel mio caso di donna, artista. Sterilità congenita e biologica, insormontabile. Frammista a tutta la mia creatività di artista, surrealista e sperimentalista. Sono del 1907, due anni prima della nascita del futurismo. Era lo stesso anno di nascita di Frida Kahlo. Anche lei non ce l'ha fatta a mettere al mondo un figlio. Lei se n'è andata nel 54. Io nel 1997, a 90 anni. Per Picasso, il mio amante padrone, sono sempre stata la donna che piange, che soffre, che si dispera, che smania. Insomma, un autolesionista. Invece, sono sempre stata un'anticonformista, pronta a sorprendere tutti con le mie opere e i miei comportamenti. Pablo sì che ha avuto figli. Da altre sue giovani amanti, io sono rimasta al palo. Artista, ma non madre. In casa mia avevo trasformato in arte anche le crepe sui muri. Dentro le crepe c'è sempre molto da scoprire. Quando Pablo mi ha lasciata, sono entrata in depressione. Non ero ancora quarantenne. Abbandono e sterilità insieme era troppo da sopportare. Ma non mi sono suicidata. Sono finita in clinica, questo sì. E ho ricevuto tante applicazioni di elettroshock. Così, come era capitato alla Camille Claudel di Rodin. Insomma, se la natura non mi avesse reso infeconda, io avrei scelto di avere molti figli. Una madre, magari anticonformista e controcorrente, magari eccentrica e trasformista. Ma pur sempre una mamma. Sono stata invece una bambola surrealista, bella e provocante, forse per questo che non mi è stato possibile partorire. È andata così. Dora Mar, ritratta da Picasso. Com'è? Una donna dagli occhi a forma di lacrimoni.